salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale e benvenuti in questo nuovo appuntamento con snow runner continuiamo la nostra avventura allora ci siamo lasciati che abbiamo consegnato alcuni alcuni oggetti qui nella cittadina una cistana di carburante insomma dell'assi di legno e altre cose che che servivano e abbiamo completato l'incarico in in questa posizione ma quest'oggi direi di invece di gironzolare un pochettino nel senso che ho dato un'occhiata ai vari contratti e incarichi che abbiamo a disposizione ma sono un po tutti lontanucci e in posizione che non abbiamo ancora ben scoperto quindi direi di magari di andare insomma ad esplorare prima di tutto magari qui che abbiamo vicino rispetto alla nostra posizione e vediamo un po cosa cosa c'è da fare perché come vi ho detto per forza di cose dobbiamo andarci a sbloccare alcune alcune zone per avere un'idea pochettino più chiara della situazione tra l'altro ad esempio dovremmo andare a recuperare questo potenziamento che è qua sopra e scoprire di che cosa di che cosa si tratta ma soprattutto dove dobbiamo dove possiamo andarlo ad installare quindi utilizziamo il nostro fitato cano guarda il nostro amico che sa biocca dentro dentro al cano stiamo qui per dormire si abbiocca se non stiamo stiamo facendo niente allora andiamo dicevo direttamente con con il camion lì sulla sulla sinistra però il rimorchio lo lasciamo qui e vediamo che come come è la situazione intanto qui è stata chiusa ma non per noi ok allora questa che cosa è allora nuovo obiettivo scoperto frana mostra in carico abbiamo un problema di frane continuano ad abbattere la nostra infrastruttura ma non abbiamo risorse per fermarle se potessi dare un'occhiata ne saremo grati 1600 e 180 stelline allora vediamo qua ok è proprio avanti dove volevo andare allora aspettate un attimo hanno bisogno di assi di metallo che le recuperiamo qui e ricambi di riparazione che dobbiamo andare al magazzino il magazzino è una zona che noi non abbiamo sbloccato però proseguendo qui la strada nel garage credo che da qui a qui non sia poi così tanto distante allora direi che potrebbe fare al caso nostro accettiamolo quindi proseguiamo comunque avanti perché se abbiamo la possibilità di arrivarci con questo qui appunto volevo andare alla torre di osservazione che la vediamo insomma qui davanti a noi per avere insomma un'idea più chiara della faccenda e vedere anche dove è questa frana qui c'è altro vediamo un attimo mostra a carico rimorchio bloccato pare che la prima ondara dei soccorritori arrivata qui fosse un branco di diodi sono riusciti a perdere un intero rimorchio e ti andrebbe di trovarlo e di portarlo indietro allora dettagli rimorchio con telone e beh oltre oltre la frana però consigliano camion da fuoristrada che noi non abbiamo per il momento quindi ringrazio ma vado avanti a parte che dobbiamo appunto terminare il la missione della frana se no non possiamo andare a sbloccare la la zona allora per la torre qui a sinistra qui è una zona alquanto fangosa e pericolosa quindi tocca un attimo prestare attenzione cerchiamo di superare sta zona in scioltezza manco tantissimo aspettate che... blocco differenziale non abbiamo neanche nessun appiglio per il vericello dobbiamo uscircene con le nostre forze perché non prendo la jeep per fare queste cose dannazione che non mannava ero già sopra al mezzo quindi ho detto vabbè andiamo con questo qui che sarà mai ok torre d'osservazione scoperta 50 stelline avvia osservazione avvia salto dell'aquila di assassin's creed ok uh madonna la roba e quante missioni tra l'altro ci ha sbloccato allora la frana e va bene rimarco l'abbiamo visto e va bene drenaggio rimarco il burcato negozio rimarchi passaggio per diga di smithville ah ok c'è pure un altro passaggio questo non ho idea di cosa sia scout 80 una gippetta che volendo potremmo andare a recuperarli e riparazione sponde mi pare che ah ok ecco lo potenziamento ma sembra la strana di aver letto anche il potenziamento sta qua in cima addirittura questa però è più una stradina di da jeep credo beh ci ha sbloccato un bel po' eh tutta sta zona insomma perlomeno abbiamo un'idea un po' più chiara della situazione allora però torniamo al nostro obiettivo del del giorno che è quello della della frana frana eccola qua giù in fondo in teoria l'ho l'ho accettata no? ok inizia a tracciare allora assi di metallo quindi ritorniamo nella cittadina e andiamoci da prendere che stanno qui vicino mentre per quanto riguarda il magazzino vorrebbe essere un po' più complicata la faccenda è complicata perché è in una zona che non abbiamo esplorato quindi andiamo ovviamente così giusto per vedere che cos'è senza avere un'anteprima di cosa ci aspetta così a occhi chiusi andiamo all'avventura tra l'altro devo anche mettere benzina a sto camion altrimenti rischiamo di non di non vederla a sta avventura e è fortuna c'era sto cescuglietto per agganciarsi dai ma non prendimi punti di ancoraggio impossibili diciamo me lo dava addirittura sulla destra e indietro cioè dove andavo avanti non devo tornare indietro allora li mettiamo in automatico magari riusciamo a uscire da qua si adora quanto mi mancano un paio di gomme adatte per sto terreno stiamo facendo una fatica incredibile veramente incredibile ok dai 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 non perdiamo lo slancio una volta che ha preso il via meno ci si ferma e meglio è eccoci qua allora andiamo sull'asfalto che è già migliore allora un assi di metallo quindi il rimarche ce l'abbiamo ancora qua per fortuna lo abbiamo lasciato qui tra l'altro c'abbiamo anche quell'altro rimarche già con del carico se non ricordo male dovrebbe essere dovrebbe essere l'igno allora aggancia collega rimarchio perfetto faccio il giro di qua perché far retromarcia con rimarche del genere non è cosa assolutamente rischi di accartocciarti in in un attimo proprio ok allora perfetto gestione carico allora abbiamo detto assi di metallo una perfetto ce n'entra una proprio precisa precisa allora di nuovo lì speriamo di farcela più che altro ma noi abbiamo visto la strada soltanto a metà ed è già era impicciata dobbiamo proseguire ancora più in alto per andare al punto di scarico quindi vediamo qui cerchiamo di fare come ho fatto prima un po' velocino senza fermarci anche se ora siamo ovviamente più pesanti visto il carico che portiamo dietro però insomma se riusciamo a non fermarci è ovviamente la soluzione migliore teniamo per ora così anche ovviamente le quattro demotrici e qui qui portiamoci sulla sinistra speriamo che non sia una cazzata in verità perché aspettate blocco differenziale e via dai 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 meno male meno male ci stanno i pali della della corrente qui no avevo il dubbio che magari stando troppo lontano da questa zona di destra lui non riuscisse ad agganciarsi a niente dai che mi serve qualcosa per agganciarsi in avanti non non de lato dai avanti devi attaccare ottimo fai così mi raccomando ragazzi usate sempre il vericello quando ne avete la possibilità perché insomma non ha senso stare lì a perdere tempo e a cercare di di uscire utilizzatolo e via prima venire uscire dalla situazione e meglio altrimenti potrebbe potrebbe essere irreparabile come come cosa allora questa direi che è la nostra frana allora assi di metallo perfetto ok abbiamo già scaricato ora abbiamo la necessità dei ricambi per riparazione quindi dobbiamo tornare indietro tornare a garage tra l'altro mazza quanta è lunga la strada e andare da quest'altra parte si 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 ok è un po' lunghetta ma ce la faremo ce la faremo ovviamente come sempre il mio obiettivo è cercare di portarvi un contenuto non lunghissimo però rendo conto che insomma se c'è andata una parte all'altra della mappa vorrei evitare di tagliare perché come vi ho detto è il fulcro insomma della situazione è proprio il viaggio stesso perché lì insidie sono appunto lì se sentire dei cicolini sottofondo ma è la è la finestra attenzione la zona è infame la zona proprio è infame vai usciamo da qui ho messo un aggancio via dai che forse van bene pure solo i quattro dei matrici si vai dobbiamo assolutamente fare benzina adesso che scendiamo giù stiamo oltre la metà serbatoio il problema è che ovviamente stando con questi terreni andiamo molto a consumare perché insomma le spingiamo molto sull'acceleratore le ruote slittano quindi fanno ovviamente molta più fatica e il consumo si sente 9.5 litro per minuto dovrebbe essere quello e quindi ovviamente vedete sale e scende in base alla tipologia di terreno che andiamo a incontrare ed eventualmente allo slittare delle ruote che fanno appunto un po' di fatica allora qui c'è un punto non ho capito perché mi segna qua mi segna perché ci sono dei rimorchi ok dovrei perderci diciamo un po' di tempo a recuperare un camion o rimorchi vari che abbiamo in giro per avere insomma un quadro un po' generale di quanti ne abbiamo a disposizione perché per quanto riguarda i camion non mi sembra ce ne siano tantissimi anche se ovviamente dobbiamo sbloccare delle altre parti della mappa e quindi magari potremmo trovarli da un'altra parte invece dei rimorchi cisterna eccetera ce ne sono un bel po' in giro quindi sarebbe l'ideale magari di andarli a tenere nel garage anche se non so quanto possa pagare il fatto di averli tutti in un unico punto mi spiego perché se dobbiamo fare una missione in questa parte della mappa e abbiamo tutti i rimorchi nel garage insomma necessariamente dobbiamo tornare indietro prenderlo e ritornare qua mi rendo conto che magari non è che giriamo sempre con i rimorchi attaccati perché insomma ok se sono vuoti non danno ahia non danno grossi problemi però insomma fanno comunque peso quindi l'avercelo un po' sparsi qua e là forse per i rimorchi può andar bene per i mezzi invece non so non so cosa possa andare meglio o peggio per i per i mezzi un po' più semplici anche riportati indietro in quanto hanno la funzione di di recupero cioè li recuperi e li porti automaticamente nel nel garage dove vengono sistemati e quindi è veloce mentre per i rimorchi non puoi farla sta cosa scusate dicevo per i rimorchi non puoi farla questa cosa e quindi per forza di cose li devi trasportare manualmente intanto ricomincia a piovere ok garage ricosta ma andà belli spediti eh uh vada 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 il rimorchio non segue è molto la motrice è partito inderavata addosso al trail ok noi ovviamente cerchiamo di non fermarci assolutamente altrimenti qui rimaniamo pregati qui sulla destra occhio 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 tasto ai vai nel canale no che sennò è la fine ah non abbiamo ok vai vericello vai però me ne servirebbe uno davanti più che da lato eccolo vai tira frate tira stacca vai che stiamo guadagnando l'asfalto ok ci siamo ci siamo via via questo è già terreno la migliore togliamo anche le quattro ruote motrici così siamo più più liberi allora ci siamo quasi siamo nei pressi del nostro garage però la nostra missione non è non è terminata perché dovremo proseguire su un terreno che non conosciamo vai torniamo le quattro ruote motrici perché qua c'è il fango quindi vedremo quali insidie ci aspettano però per assurdo non so se dovrei portarmi indietro o meno un rimorchio vi spiego perché di solito nei punti dove andiamo ci sono sempre anche dei rimorchi specie se ci vai la prima volta insomma perché se ci sei già passato magari l'hai già scoperta e sai se c'era o meno quindi secondo me conviene non andarci con il rimorchio e una volta giunti lì al magazzino sperare che ci sia un rimorchio e recuperare con quello il carico ma sono abbastanza sicuro che ci sia perché come vi ho detto prima di solito per ogni punto c'è sempre un rimorchio a disposizione quindi faremo faremo così proviamo a togliere un attimo le ridotte vediamo se riusciamo a passare ugualmente senza grossi problemi sembra di sì teniamoci magari lontani dalle pietre e qua teniamoci un filino più a sinistra ok comunque se abbiamo due ruote insomma nella parte del del canale di fango non fa grossa differenza è importante che le altre siano in un punto un po' più un po' più duretto per avere un po' di attrito stiamo consumando un casino intanto 10 litri al minuto perché insomma faticavamo a bestia su quel terreno allora ritornati in una posizione più favorevole asfalto e siamo giunti finalmente al garage allora questo lo lasciamo lì e già che ci stiamo mi sa che rientro nel garage così recupero questi pochi danni che abbiamo arrecato al nostro mezzo allora qui abbiamo il rimorchio con questo lo lasciamo qua con il cassone di riparazioni non mi ricordo che cos'è che cos'è quello abbiamo quello con gli altri due blocchi di cemento che ci sono avanzati nella scorsa missione e staccarimarchie perfetto quindi ce l'abbiamo tutti qua a disposizione nel caso ci servisse tra l'altro questo è abbastanza lungo più che altro per avere la possibilità di caricarci dei mezzi sopra quindi in caso di missioni di recupero dovremo necessariamente andare con quello porta in garage lo abbiamo riparato quindi tutto perfetto voglio vedere se magari ci ha sbloccato qualcosa ma non credo perché comunque sia dovremmo arrivare a livello 6 appunto siamo a livello 3 quindi la situazione è ancora molto molto lontana per noi fuori strada a livello 8 capirai incatenate addirittura questo è per quando andremo sulla sulla neve necessita di livello 12 quindi decisamente troppo troppo alto e questo è l'aspetto non abbiamo niente tettucce vabbè questo aggiunge cazzatine varie insomma niente niente di che questa c'è una griglia protezione cabina che non abbiamo le doppie trombe qua vabbè non vado a spendere soldi al momento per per queste cose anche perché poi magari possono tornarci utili per compare insomma qualche camion nuovo o altro allora abbiamo detto missione magazzino direzione magazzino allora usciamo dal garage a destra e lungo la strada principale e ora andiamo ad esplorare nuovi posti sperando di riuscire quindi abbiamo detto sulla destra io vado subito ad attivare le quattro ruote motrici ma mia stava a fine lungo cerchiamo di prendere un po' di rincorsa per superare queste zone intanto smesse le piove finalmente anche se fa un po' come gli apiare più il tempo che piove che altro ok vediamo pure un po' di luci così ci vediamo meglio uh vada qua aspetta aspetta fammene andare qui sulla destra forse è stata una buona idea via via aspetta blocco ridotto e blocco differenziale via andiamo andiamo un parolone oh che troia stavano pantanati come pochi forse non è stata affatto una buona idea passare di qua vedevo fosse meglio invece no dietro posso attaccarmi da nessuna parte cazzo abbiamo fatto una pessima figura tra l'altro stiamo anche scendendo vediamo se riusciamo a uscire piano piano pare stiamo insomma tornando indietro cerco di accelerare quanto più piano possibile ma dai 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 a ricominciare a piove madonna non c'è un attimo di tregua dai cazzo cioè stiamo muovendo piano piano all'indietro pare parca troia e qui la situazione è impicciata niente via aspetta però fa mettere un po' la marcia avanti ok adesso palo indietro mi serve di andare indietro vai 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 quel poco che io possa girare ok ottimo via avanti agganciare il vericello vai cazzo vai così uh non è che qua sia meglio eh però è una situazione particolare agganciati con il carico sta strada con il carico fortuna ci stanno a sti pali via 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 sto facendo una fatica paurosa dai piantina salvami salvami tu ok e niente non c'è più la piantina la prossima volta non avremo niente vai dai che mi serve l'altro palo parca troia canta è difficile sto pezzo peggio di qua la solita che cercavamo di fare l'altra volta credo sia il pezzo più difficile della della strada no 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 dai ok che cazzo è dai pure le pietre via 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 ok pure le pietre rompite le scato allora qua c'è camp camp campo no assolutamente anche se qui c'è la torre di osservazione ma al momento non è non è fattibile come come cosa vediamo un attimo è tutta in salita tra l'altro tutta in salita tra l'altro vabbè facciamo famo ergi un lungo va capito non mi fido non mi fido perché potrebbe essere ancora piuttosto di questa qui di come come strada a parte ci sono dei sulchi enormi qua che cazzarola c'è passato già qua ahia ma mia il vericello tirato mi stava portando addosso al palo infatti è così stato ok intervalliamo vericello e attaccato e non moro da poter avere un po' di slancio dai qui c'è un pezzo di di terreno un pochettino più rigido occhio mia ok allora bene un attimo che qua non ho idea di dove stiamo andando allora per fortuna la mappa ovviamente va a scoprirsi mano a mano che lo andiamo ad esplorare allora altro posto impicciato qua allora sto vedendo dove potrei avere più appigli tecnicamente qui sulla destra perché comunque ho degli alberi a disposizione quindi bisogna prestare un po' più di attenzione ok vai 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 ganciami ganciami quello dell'acqua è pericoloso ma noi siamo temerari vai cazzo manco col col vericello riesce a tirare aspetta io non c'ho manca il blocco differenziale vabbè ma so voglio però eh però dillo che non ci voglio uscire da sta cosa quindi non è che mi stia dando poi tutta sta mano però perlomeno vedo che riesce ad aggrapparsi e a a tirarmi su vedi che in maniera automatica lui aggancia il vericello veramente in punti assurdi perché sto andando avanti per quale ragione me lo dovresti collegare dietro eh non è che sto cercando di andare indietro sto cercando avanti vai 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 che ci siamo se buttiamo giù piante tanto c'erano so tante qui allora dovrebbe essere questa la la strada diciamo un attimo in automatico ok dai 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 che ha preso un po' di velocità adesso seguendo più che altro il puntino che ci indica insomma da quel lato io spero che sia quella corretta sì ok giusto dobbiamo fare solo un po' giro panoramico però è quella è quella corretta teniamoci ovviamente qui sulla destra stando attenti è un piallo per palo e qua aia cazzo piccoli danni eh vabbè finché sono piccini non ci danno grossi problemi andando a manetta proprio allora qui sulla destra sicuro ok già asfalto ci piace ci piace io le 4 lati motrici famolo un po' scaricare sto sto camera allora finalmente giunti al magazzino vedete per fortuna le mie previsioni erano corrette abbiamo un rimorchio qui ad aspettarci e noi lo andiamo assolutamente a utilizzare funzioni e collegare i marchio quando si deve collegare automaticamente è un po' bruttina l'animazione allora eccoci qua gestisci carico allora qui potremmo andare a recuperare mattoni blocchi di cemento ricambi per riparazioni che è quello che ci interessa assi di metallo e basta un po' un po' tutto qui allora abbiamo ricambi solo di riparazioni ce ne serve uno solo quindi non ha senso caricarci due allora ragazzi io direi che ci possiamo fermare qui altrimenti con tutto il viaggio di ritorno diventa veramente troppo troppo lungo ci siamo insomma spinti fino alla scoperta del del magazzino non ho ancora sbloccato le parti delle torri di osservazione lo dovrò fare quindi io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me grazie se siete arrivati fino alla fine del video vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo video ciao ciao